Ah ah, la mia bestia blarciana sta divorando la tua mosca mutante delle valute. Oh, come è? Scommetto che questa mossa non te la... Sì, ma che stai facendo? Ti do un scapponazzo. Cosa? Ma 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 ma, hai barato? Non direi proprio. Le regole dicono chiaramente che la bestia blarciana ha una reazione allergica alle mosche della famiglia che dura due termine. Uh, ricomincia la trasmissione. Lei è estremamente infortunato, signore. Ma si comporta con tanta classe anche volta. Non so che dire, Max Link. Io non perdo mai. Beh, c'è sempre prima volta per ogni cosa. Maggiente Clay! Manca! E questo sarebbe famoso agente Segre. Oh, il mio! Senta. Porta quella macchina, James. Questa volta è attento al segreto aiutabile. Oh, 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 oh. Ah, restate sintonitati. Agente Clank vi aspetta. È stato fantastico. Sì, grande. Cambia canale. Ma hanno appena detto di rimanere sintonizzati. Riprendiamo la trasmissione in diretta da Venni. Poche ore fa, questo pianente è stato inaspettatamente attaccato dalla ben nota e terrificante razza aliena del tirannodi. Le forze dell'ordine ritengono che il malvagio criminale robotico, Dottor Nefarius, sia la mente che si cela dietro l'attacco dei tirannodi. Come vedete, i Ranger galattici stanno combattendo con coraggio. Ma non potranno farci da contro quei nostri tentacolari. In effetti, questo tranquillo pianeta potrebbe essere concretamente distinto in gruppo di luna. Dalla Grecia, TG di Galà 64. Vai, andiamo a casa. Ma Venni non si trova nella galassia solana. Oh no, userei il motore dimensionale gradimetrico. Il motore dimensionale gradimetrico mai è stato? Quello creato con scarti di materiale blanciano. Andiamo? Ok, ce l'ho facciato. Cos'è che dicevi? Oh, va bene, mi sono sbattato. Spero solo che non sia troppo giusto.